Il giudice, la vittima e l'assassino Il giudice, la vittima e l'assassino Sono tre romanzi brevissimi su tre personaggi che compiono i 50 anni cioè entrano nella terza età Il terzo libro è appunto l'assassino che è un libro la cui particolarità si riscontra dal fatto che chiunque lo legge scopre di essere un assassino chiunque lo legge e guarda caso chi è questo assassino il Presidente della Repubblica diciamo più correttamente un Presidente della Repubblica Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti